Dal campo nuovo siamo passati al campo della vittoria di via nazionale, qua si allenano gli allievi di mister Gabriele di Felice, un bel gruppo anche qua, pure Rinsetto, tutti i balzi. Ok dai, venite qua, ritorniamo sul tappetino, quale era il mio, l'ultima serie, un po' quanto mi piace, andiamo giù con la pancia, giù con la pancia, giù con la pancia, dai qui, dai, 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 ecco i nostri ragazzi tutti in posizione, Guardate, al fischio andiamo su, leggeri, leggeri, in posizione bocconi, con le punte, si alzano, qua abbiamo, qua abbiamo, qua abbiamo Lele, qua abbiamo Teddy, qua abbiamo Rinsetto, Riccardo, Caran, il nostro mister che ha detto i tempi, mister Gabriele ha detto i tempi, qua c'è Cristian, Occhio adesso, sono tre, tre, c'è Guido, così, Gabriele, due, Amedeo, in tenuta viola c'è anche Michele, qua si vede Costantini, Sempre tre, andiamo giù, con barca a Barcellona, occhio, uno, giù, sempre tre, uno, due, tre, giù, Cerchiamo di prenderci le gambe, ci riusciamo? Così, stiamo fermi, stiamo fermi, tiriamo, tiriamo le gambe, così, Mi sembra l'incapprettamente che si usa la Sicilia, ok, bello, sorti, sorti, bello, bravi, così si distengono i mostretti, Qua invece da questo lato c'è mister Mancini Francesco che sta allenando i portieri, in porta c'è Gianni Perrucci che domenica scorsa ha fatto il suo esordio in panchina con la prima squadra, qua c'è Matteo Dottavio, anche lui gassato, dopo abbiamo Dinella, Lorenzo, giusto? Lorenzo, là in fondo abbiamo mister Nicola, in borghese sta oggi, Sempre da questo lato il mister carica, aumenta i ritmi di allenamento per i suoi ragazzi, il 22 inizia il campionato, due giorni prima usciranno i calentari ufficialmente, abbiamo anche un Messi qua, Movimento e scatto in progressione, occhio, via, su, così, vede, così, dai, buono, questo è buono, ancora meglio il terzo, via, scatto in progressione, andiamo in movimento, aspettiamo il fischio e a seguire aumentiamo, via, fino in movimento, aspettiamo il fischio, via, buona Medè, buona Celluli, carissimo Celluli, dai l'ultimo, Siamo sempre in movimento, aspettiamo il fischio, via, andiamo, prendiamo la palla, mette la palla, no, lascia quelli del portiere, bene, prendiamo dello scapuzzino, due palloni buoni, dai venite qua, grazie. Grazie.